buongiorno ragazze buon inizio settimana tra due giorni la mia nipotina fa tre mesi il 23 ottobre fa tre mesi che bello come cresce ragazze sono felice per come cresce allora situazione meteo cielo pulito infatti l'aria è fresca si sta bene il mare una tavola il mare una tavola blu come diceva una canzone una vecchia canzone allora ragazze stamattina siccome devo spolverare due mobili che avevo detto sabato che avevo bisogno di spolverare la mia strategia è questa intanto liberare quello appunto che voglio spolverare perché se io non lo libero quando poi finisco di fare diciamo la mia routine dico vabbè dai lo facciamo domani invece una volta che ho tolto tutte cose è chiaro che non posso lasciare così e quindi mi costringo a spolverare che poi ci vuole più a farlo come dire ci vuole più a dirlo che a farlo che una volta che le cose si tolgono la superficie è piccola e poi piccolo grande basta una passata e si fa quindi la mia strategia per costringermi a spolverare è questa liberare subito i mobili anzi liberarli prima poi sto lavando a mano questo vestitino di zara naturalmente appunto questo preferisco lavarlo io a mano poi invece sto facendo una lavatrice con cose scure pigiami di mio marito insomma un po di cose scure e ora mi devo fare la cucina ragazze oggi voglio togliere voglio togliere un poco voglio tenere il piano della cucina più libero che mai quindi sto togliendo un poco di cosa ad esempio accanto alla bilancia c'era questo barattolo dove io tengo la mia pasta integrale siccome qua c'è spazio l'ho messo qua voglio appunto liberare sia il piano di lavoro vabbè le isole ormai ci tengo davvero pochissime cose a parte questa testa questa piccola alzatina ci tengo veramente poche cose e quindi appunto oggi voglio un pochino togliere ragazze niente vi volevo dire che ieri sono stata appunto al centro commerciale con cadoro dove ho dato un'occhiata però vi devo dire che non è andata bene perché appunto arrivati al centro commerciale abbiamo parcheggiato poi ho fatto la strada dal parcheggio per arrivare appunto al centro commerciale mi sono sentita un po strano un po spossata un poco stanca come se avessi fatto chissà che quindi mi sono sentita così stanca e diciamo che però sono entrata da zara sono entrata da piazza italia e ve l'ho fatto anche a vedere però avevo questa sensazione di stanchezza che non mi ha lasciata quindi poi mi sono seduta un attimo su una panchina appunto che ci sono all'interno del centro commerciale e poi ho detto a mio marito ascolta valla a prendere tu la macchina così mi evito questo tragitto perché naturalmente gli ho spiegato che avevo questo senso di stanchezza diciamo immotivato perché non è che avessi fatto chissà che comunque ragazze sono cose così sono cose che capitano a mio marito capita pure alcune volte mi capita di sentirmi un po anche quando parlo con voi che giro il video cammino e parlo mi sento un po come dire un po in affanno non lo so può darsi potrebbe essere pure il fatto che sono fuori allenamento bisogno di ritornare in palestra magari riprendendo l'allenamento appunto il tapirulan mi alleno un poco ragazze speriamo appunto che che si allontani questa questa cosa perché è brutto sentirsi stanchi in affanno senza motivo questa è cosa che io avevo tanti anni fa però molto più accentuata tanti anni fa soffrendo appunto di un po di depressione avevo questa cosa che mi alzavo al mattino ed ero già quasi stanca poi appunto mi facevo due cosine a casa e mi sentivo subito stanca e poi appunto con visite cose varie mi dissero che era depressione e io tuttora prendo sempre questa compressa che mi ha prescritto il medico il neurologo ma vent'anni fa forse anche di più e quindi ragazze non lo so speriamo che che non si ripresenti questa questa brutta sensazione è niente andiamo avanti qui c'è maia che vi vuole salutare eccola qui che vi stavo dicendo appunto che mi sono tolta le cose appunto dal mobile per spolverare e riguardando questa fotografia vi faccio vedere riguardando questa foto qua siamo io e mio marito a favignana ragazze guardate mio marito che giovane allora qua parliamo di vent'anni fa esattamente perché io mi ricordo che qui ne avevo 44 l'anno 64 quindi vent'anni fa mio marito guardate quanto è bello tutti i capelli neri io guardate quanto sono magra sono magra anche se mi sentivo sempre un po grassa e qui mi ricordo che il mio peso si aggirava intorno ai 63 64 kg guardate che ero magra e guardate mio marito che giovane siamo a favignana ed eravamo stati a favignana con la barca che ai tempi aveva mio cognato e quindi eravamo andati eravamo in barca in questa questo yacht diciamo con due stanze posti letto due bagni addirittura e avevamo il marinaio appunto che ci aveva portato qui a favignana però abbiamo fatto un giorno no aspettate no no poi siamo rimasti là a dormire sì due giorni siamo stati e niente ragazze quindi con la scusa di spolverare mi è venuta in mente questi giorni che eravamo qui a favignana naturalmente i miei figli trattandosi di vent'anni fa giustamente anche loro erano più piccoli alessi aveva quindi 15 16 anni marco 20 ed erano con noi perché appunto eravamo a favignano bene ragazze allora a questo punto vado a pulirmi la cucina e oggi appunto come vi dicevo voglio rassettare un pochino il piano di lavoro voglio tenerlo più libero possibile be letto